Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Parliamo di metro C per le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea sino al Colosseo. La sera dalle ore 21 la tratta Malatesta San Giovanni è sostituita da bus. Inoltre dalle 20 e 30 di venerdì e sino a fine servizio di domenica la linea C sarà integralmente sostituita da bus navetta ma per tutti i dettagli delle modifiche che in queste settimane stanno interessando la metro C il